Da ieri sera l'Etna ha dato vita a uno spettacolo straordinario. Il vulcano più alto d'Europa ha iniziato ad eruttare da uno dei suoi quattro crateri sommitali, dalla voragine. Lo spettacolo è stato ben visibile dalla costa, infatti una nuvola di cenere e fumo ha sovrastato i comuni della fascia ionica. Questa mattina gli abitanti di Reggio e di Messina si sono ritrovati ricoperti di cenere. L'Etna è il vulcano più grande d'Europa e tra i vulcani più attivi del mondo. Le sue eruzioni avvengono sia in sommità, dove attualmente si trovano quattro crateri, sia dai fianchi fino ad altezze di poche centinaia di metri sopra il livello del mare. Messina questa mattina si è svegliata sotto una coltre di polvere nera, che ha ricoperto i tetti, strade e automobili. E proprio lungo le arterie occorre prestare attenzione. La cenere rende viscido l'asfalto, rendendolo pericoloso soprattutto per i mezzi a due ruote. Al momento non si registrano disagi all'aeroporto di Catania. In passato la cenere ha più volte bloccato tutti i voli, costringendo a chiudere l'infrastruttura. Questa mattina è stata caratterizzata da un'intensa pioggia di cenere che ha oscurato il cielo eclissando il sole all'alba e regalando immagini straordinarie tra Sicilia orientale e Calabria. La nube di cenere si sta adesso muovendo verso Puglia e Basilicata.